Finisce 1-1 tra Teramo e Ponte d'Era. Le emozioni solo nella prima frazione con i gol di Benedetti e Bernardotto. Nella ripresa succede ben poco. Entrambe le formazioni preferiscono non rischiare e portare così in porto un risultato che alla fine può accontentare tutti per i rispettivi obiettivi. Guidi conferma lo stesso Undici che ha battuto la Cararese a Ottemalotti ancora debilitato, De Grazia a parte della panchina, come Lombardo, Mordini e Rossetti. Nel Ponte d'Era Maraia deve rinunciare a centrocampo a Caponi e Catanese squalificati. A guidare l'attacco c'è l'ex Simone Magnaghi, a supporto Benedetti, l'altro ex Foglia. Un primo tempo con poche emozioni, tranne i due gol, al piccolo trotto. Gara subito in salita per i biancorossi però che dopo appena 5 minuti di gioco sono sotto di una rete. L'autore Benedetti che arriva dalle retrovie al quinto ribatte in gol, una respinta di Perrucchini che non trattiene la sfera sulla conclusione di Barba. Un gol che gela il Bonolis, ma il diavolo è bravo a non disunirsi. La squadra di Guidi si ripropone subito in avanti e inizia a macinare gioco. Al sedicesimo all'occasione per pareggiare, Bernardotto sfonda a destra il cross per D'Andrea che sottoporta scoordinato calcio alto. Al trentottesimo il diavolo sciupa un'altra ghiotta occasione con Aziosmanovic che tutto solo in contropiede da ottima posizione spara alto. Il Ponte d'Era si difende, il Teramo insiste e al quarantunesimo pareggia con Bernardotto che di testa, dopo uno slalom di rosso da applausi sulla sinistra, il cross viene raccolto dall'attaccante che di testa firma il settimo sigillo stagionale. E va così il Teramo a riposo, meritatamente sul risultato di 1-1. La ripresa vara di emozioni, due squadre preoccupate più a non subire che ad offendere. Al cinquantacinquesimo ci prova Magnaghi dalla distanza. Il tiro è centrale, blocca a terra Perrucchini. Sarà l'unico tiro in porta, l'unica emozione nel secondo tempo da parte di tutte e due le squadre. Gara piacevole, non si gioca su ritmi alti e poche sono le emozioni. Due squadre preoccupate più a non subire. Inizia la girandola di Cambi, nel Ponte d'Era esce l'ex Magnaghi per Mattioli. Guidi mette dentro forze Feresche nella speranza di scuotere i suoi. Furlan, Pinto e Viero per Fiorani, Cisco ed Andrea. Il prodotto però non cambia. Il Teramo ci prova anche nei sei minuti di recupero a vincere, ma finisce 1-1. Un risultato comunque importante, strappato con carattere dalla squadra di Guidi, che permette ai biancorossi di festeggiare la quasi matematica salvezza e al Ponte d'Era la certezza invece della permanenza nella categoria. Giovedì alle 21, Teramo impegnato in trasferta ad Ancona.